Prendiamo insieme le notizie legate al contesto sanitario perché in Piemonte continua il calo dei decessi e da ieri la regione ha cambiato la modalità con cui comunica i dati. I numeri che vi daremo sono aggiornati alle 12 e non più alle 17. I decessi di giornata sono stati 22, due in più di domenica per un totale di 3.186 deceduti, risultati positivi al virus. 6.318 sono i pazienti guariti mentre nel complesso sono 27.622 le persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte con una provincia d'Alessandria, lo ricordiamo, che segue in seconda posizione quella di Torino. In Liguria, che è tra le regioni del nord che nel primo trimestre del 2020 hanno registrato una minore mortalità a causa della pandemia da covid-19, ci sono stati 53 nuovi contagiati e 12 morti per un totale di 1.219 da inizio pandemia. Anche in questa regione ci sono più guariti, 71 in un giorno, calano ospedalizzati e positivi. E intanto si parla di fase 2, di ripartenza a Piemonte. Ieri nel tardo pomeriggio, nel corso di una videoconferenza, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio ha proprio annunciato l'approvazione di questo disegno di legge che è composto da 60 articoli e che stanzia appunto la cifra di 800 milioni da ripartire alle varie categorie, qui le vedete tutte elencate e nel corso dei prossimi giorni ogni assessore competente, parlerà appunto e illustrerà come verranno ripartiti questi fondi e quindi con quali tempistiche e anche con quali modalità.